Ciao, benvenuti in questo video. Sono Umberto di TrackPoint. Questo che stai vedendo è il nuovissimo tavolino per lo Scania SR di nuovissima generazione, 2017-2018. Il tavolino, come si vede, è appoggiato in maniera perfettamente omogenea su tutti i punti del cruscotto, sia la parte lato guida che dalla parte lato passeggero. Il tavolo è facilmente applicabile solamente posizionandolo. Come vedi, in questo momento lo prendo, lo appoggio sul cruscotto e automaticamente è in posizione e fermo. Per migliorarne ovviamente la stabilità, basta togliere in questo punto il suo biadesivo col felcro e a quel punto qui il tavolino resterà perfettamente fermo. Il tavolino è possibile disporlo in diverse colorazioni. Nei colori panna, come questo che stai vedendo, nero, blu, rosso e grigio. Per ulteriori informazioni, chiamami ai numeri qua in sovraimpressione, allo 0 375 98 340 o sul numero di cellulare il 335 446 595 che è anche il numero di WhatsApp dove potrai eventualmente mandarmi anche un messaggio. Ciao da Umberto di Trekpoint Il Soleimò Il Soleimò Il Soleimò Grazie.